Allora abbiamo visto un'altra volta come si utilizza un diodo per fare un raddrizzatore vediamo un pochino più in generale come si risolve un circuito elettrico dove è presente un diodo. Voi elettrotecnica avete visto come si risolve un circuito elettrico lineare quindi con resistenze, capacità di induttanze e generatori di tensione corrente. Ora in questo caso noi abbiamo diodi che sono invece dispositivi non lineari perché la relazione tra tensione e corrente come abbiamo visto è non lineare, insomma c'è un esponenziale di mezzo. Come si fa a risolvere un circuito di quel tipo? Questo lo vediamo nel caso dei diodi ma il concetto è un pochino più generale. Partiamo con un esempio. Immaginiamo la stessa maglia che abbiamo visto per il raddrizzatore. Abbiamo un diodo, una resistenza e un generatore di tensione. Questo è un generatore di tensione VS che avrà un certo andamento rispetto al tempo. Questo è un diodo, la caduta di tensione sul diodo la chiamiamo V e c'è una corrente I che è la corrente di maglia ed è anche la corrente che passa nel diodo. Allora io questa cosa l'ho scritta l'altra volta. Noi che cosa facciamo? Scriviamo l'equazione alla maglia introducendo la caduta di tensione sul diodo. Quindi qua ci viene VS uguale a V più RI. Questa è quella che abbiamo chiamato relazione esterna, una relazione del circuito dovuta al circuito. Va bene. E poi abbiamo una relazione tra V e I che è quella che abbiamo visto essere la caratteristica del diodo. I uguale a IS che moltiplica E elevato alla V diviso eta VT meno 1. Questa è la relazione interna che è la caratteristica del diodo. Ovviamente abbiamo due incognite e due equazioni. Le incognite sono V e I. Il sistema è non lineare e quindi sappiamo che non abbiamo nessuna garanzia di esistenza e di unicità. Questo vale in generale dal punto di vista matematico non c'è niente che dimostri l'esistenza e l'unicità. Dal punto di vista fisico noi sappiamo che almeno l'esistenza è garantita e se montiamo il circuito passerà una corrente e ci sarà una caduta di tensione sul diodo. Fisicamente qualcosa avverrà. Quindi l'esistenza è garantita fisicamente. La unicità no. No, ci sono tantissimi circuiti che non hanno un'unica soluzione. Quindi non possiamo dare niente per scontato. Allora tipicamente come si risolve un sistema di questo tipo? Il modo classico di risolverlo è numericamente con tecniche di calcolo numerico, analisi numerica, alcune delle quali poi vedrete anche nel corso di studi. Dal punto di vista più pratico, diciamo in fase di progetto uno vorrebbe riuscire a capire dove il circuito va a finire, cioè quale può essere una soluzione anche con un conto carta e penna per avere un'idea. cosa molto utile. In fase di progettazione uno non vuole fare tutti i conti per sapere dove le cose vanno a finire. Quindi che cosa si fa? Si cerca di fare un conto molto approssimato che si possa fare a carta e penna in modo da avere i valori delle soluzioni in modo molto approssimato. E poi quando si ha un'idea ragionevole si fa un calcolo più preciso con un calcolatore risolvendo numericamente il sistema e si affina. Questo perché si riesce a ragionare meglio, a decidere meglio vari aspetti della progettazione se si riesce a ragionare con un modello semplice per trovare le soluzioni anche se sono approssimate. Come si fa? Un modo per vederlo è guardare questo sistema graficamente. Vediamolo un attimo graficamente. Quando disegno il sistema graficamente non sto facendo nessuna approssimazione perché semplicemente trascrivo quelle equazioni in un grafico. Allora questo l'abbiamo già fatto ieri per il sistema ideale, col diodo ideale. Adesso lo dobbiamo fare per il sistema con il diodo con la caratteristica reale. Allora noi che cosa mettiamo? Le due incognite su un piano cartesiano e rappresentiamo le curve corrispondenti alle due equazioni. Allora la prima è una retta per un particolare valore di vs. Si vede bene questa rappresenta una retta sul piano quando i è uguale a 0 e v è uguale a vs. Quindi supponiamo che vs sia qui e poi la retta ha pendenza meno 1 su r. Per esempio quando v è uguale a 0 i è uguale a vs su r. Per esempio immaginiamo che vs su r sia qui. Quindi la curva esterna si può rappresentare con una retta che passa da quei due punti. Quindi 1. Eccolo qua. Questa qui è la relazione esterna. quella di prima. Questa qua si chiama anche, perché all'espressione di una retta, retta di carico. Quindi la retta di carico è la relazione tra tensione e corrente determinata dal circuito esterno. Ora una retta si chiama retta di carico, se non fosse una retta ma fosse una curva, più generalmente una curva, si chiamerebbe curva di carico. Quindi il termine di carico sta a significare che è la relazione tra v e i dettata dal circuito esterno. Poi c'è l'altra espressione, la relazione interna, che abbiamo già disegnato insieme ed è quella curva esponenziale. Per cui qua andiamo a meno i s, qui si passa dall'origine e qui si sale su esponenzialmente. Quindi questa è meno i s e qui passa dall'origine. E questa qui è la relazione interna, cioè la caratteristica del diodo. La soluzione del sistema è sul piano graficamente data da questo punto che ha come due coordinate i valori del corrente e tensione che rappresentano la soluzione del sistema. D'accordo? Quindi graficamente questa è esattamente la stessa cosa del sistema di equazione. ok? Va bene. Allora come si fa quando si vuole ottenere invece una relazione approssimata? Si vede abbastanza bene se facciamo riferimento al grafico di prima e adottiamo una cosa che si chiama modello per i grandi segnali del diodo. Vabbè io direi per grande, facciamo il plurale scusate mi piace più, per grande segnale del diodo. Modello del diodo per grande segnale. A che cosa si fa riferimento? Si fa riferimento al fatto che se rappresento la caratteristica del diodo sul piano cartesiano IV rappresento in modo abbastanza realistico allora questa caratteristica può essere linearizzata a tratti cioè cerchiamo di trasformare il problema che abbiamo, che abbiamo un sistema non lineare cerchiamo di trasformarlo in un sistema lineare facendo una linearizzazione a tratti che cosa vuol dire? vuol dire che approssimiamo la caratteristica del diodo con una spezzata per esempio diciamo, beh, vabbè, qui possiamo approssimare la caratteristica del diodo esponenziale come una spezzata con due tratti prendiamo questo punto prendiamo un tratto fatto così e poi prendiamo un tratto fatto così che da qui va su dritto questo punto dove abbiamo il cambio di rete lo chiamiamo Vγ e quindi rappresentiamo il diodo, la caratteristica del diodo con due rette quindi per V minore di Vγ la caratteristica la approssimiamo con I uguale 0 quindi trascuriamo la corrente di saturazione inversa un po' tutto, vedete, c'è una differenza non è che le due cose sono uguali però c'è un'approssimazione che facciamo per semplificare il calcolo per V maggiore di Vγ la approssimiamo con questa retta qui vedete, è una retta che ha una certa pendenza chiamiamola 1 su R sì, la pendenza della retta 1 su R D dove il D sta per diodo e ha come intercetta con l'asse delle tensioni Vγ quindi è una cosa del tipo I uguale a V-Vγ fratto R D vedete, quando V è uguale a Vγ I è uguale a 0 e poi la pendenza è, come deve essere dimensionalmente l'inverso di una resistenza, è 1 su R D va bene? in queste due regioni possiamo anche andare a disegnare un circuito equivalente perché in questa zona dove I è uguale a 0 in cui questa è la zona 1 diciamo, che corrisponde a questo tratto 1 giusto? in pratica qual è il circuito equivalente? il circuito equivalente è un circuito aperto perché in un circuito aperto ho che I è uguale a 0 va bene? non è esattamente uguale perché in un circuito aperto I è uguale a 0 per qualunque tensione mentre invece nel diodo I è uguale a 0 solo se V è minore di Vγ quindi dobbiamo tenere presente una condizione che c'è però, quando quella condizione è verificata il modello lineare il pezzettino di circuito urinare che si comporta in modo uguale al diodo è un circuito aperto in questa zona invece tratto 2 V maggiore di Vγ questo qual è il circuito equivalente? il circuito equivalente del diodo è questo qua io lo disegno in questo modo V è questo questa è la corrente vedete se io scrivo questo è una batteria Vγ insere una resistenza pari a D Rd infatti in questo caso la corrente quant'è V-Vγ che è la caduta sulla resistenza diviso Rd quindi il diodo in questo tratto nel tratto 2 si comporta come una batteria di valore Vγ insere a una resistenza di valore Rd d'accordo? questo è il modello di grande segnale del diodo è un modello linearizzato a tratti se lo scriviamo come un sistema non come un sistema se lo scriviamo come un'espressione dobbiamo scriverlo come ho scritto io a lato mettendo le due condizioni è un'espressione lineare diversa per ciascuna condizione se lo scriviamo in modo circuitale lo scriviamo come ho scritto lì in basso a sinistra cioè è un il diodo può essere sostituito da uno dei due circuiti a seconda che sia verificata la prima o la seconda condizione d'accordo? notate che in pratica un circuito non è nient'altro che un'equazione scritta graficamente d'accordo? quindi un sistema di equazioni scritto graficamente quindi quando una cosa la faccio vedere circuitalmente o come equazione vi sto facendo vedere esattamente la stessa cosa è solo diversa la lingua una cosa è un'espressione matematica un'altra cosa invece è un circuito ma il significato è uno a uno mappato da un l'uno si ricava l'altra e viceversa allora che ci si fa con il modello per grande segnale? a questo punto abbiamo un'espressione lineare allora immaginate di riportarla nel sistema di prima è sparita l'espressione non lineare è stata sostituita da un'espressione lineare quindi a questo punto siamo tornati a caso che si conosce bene per esempio dall'elettrotecnica cioè il sistema lineare che come dire descrive il circuito basta risolverlo come si risolvono i sistemi lineari va bene? ok questa è un'approssimazione di zero guardando un po' meglio in realtà bisogna verificare quella condizione perché guardate l'espressione se v è minore di v gamma vale la prima espressione lineare se v è maggiore o uguale di v gamma vale la seconda espressione lineare ma v è un'incognita quindi quando io vado a risolvere il sistema non so se v è maggiore di v gamma o v è minore di v gamma d'accordo? quindi quale ci metto? ok come si procede? a questo punto bisogna si deve procedere in questo modo si fa prima un'ipotesi sul fatto che v sia minore di v gamma o maggiore di v gamma una volta fatta quell'ipotesi si risolve si sostituisce al diodo in questo caso il circuito equivalente corrispondente e si risolve il sistema lineare che ne risulta d'accordo? una volta risolto il sistema lineare trovo i valori di tutte le incognite trovo per esempio anche il valore di v e vado a vedere se effettivamente l'ipotesi iniziale è soddisfatta se è soddisfatta va bene abbiamo trovato la soluzione se non è soddisfatta non va bene allora faccio l'altra ipotesi per esempio ho fatto prima l'ipotesi 1 faccio dopo l'ipotesi 2 sostituisco l'espressione che corrisponde all'ipotesi 2 risolvo il sistema trovo le soluzioni trovo la soluzione per v vado a verificare e a questo punto l'ipotesi 2 deve essere soddisfatta d'accordo? questo è il modo in cui si ragiona scriviamolo allora come si procede 1 ipotesi su quale tratto lineare si debba usare 2 risolviamo risolvo ok il sistema lineare risultante 3 verifico l'ipotesi va bene ma capista per ipotesi quindi ipotesi sottolineata ok se la verifico bene se no ne faccio un'altra affinché non la verifico d'accordo piccolo piccola nota dico a voce che non ho più spazio qui ora qua è banale perché ho un diodo soltanto d'accordo? immaginate un circuito con 10 diodi se ho 10 diodi le possibilità sono 2 per ogni diodo sono 2 alla 10 alla 10 vuol dire 1024 possibilità quindi io potrei fare 1024 ipotesi diverse e andare a verificarle va bene quindi è chiaro che il problema così è semplice ma se il circuito diventa un tantino più complicato si può complicare molto questo che cosa vuol dire? vuol dire che non è che possa nella pratica non devo andare a caso nel formulare l'ipotesi perché come il circuito diventa un po' più complicato ne devo fare tante un numero eccessivo rispetto a quello che è ragionevole e quindi bisogna che mi faccia guidare dalla consapevolezza di cos'è che deve fare quel circuito di come si comporterà per fare l'ipotesi giusta in modo da sperabilmente prenderla alla prima ok? se non la prima è la seconda però è chiaro se la prende alla 1024 ho perso ok? quindi questa è un'ipotesi e perché questo si può fare? si può fare essenzialmente perché non si sta studiando un sistema lineare non si sta studiando un sistema naturale una cosa che si trova in natura non si conosce si guarda com'è e non si ha la più pallida idea di che ipotesi fare di solito è un circuito progettato da un'altra persona che con quel circuito vorrà fare qualcosa e quindi più o meno guardandolo capisco che cosa aveva voluto fare e posso fare le ipotesi giuste quindi non devo andare a caso in formulare l'ipotesi ma devo sapere più o meno o vedere guardando il circuito all'incirca che cosa vuole fare quella persona ok? quindi per questo è importante conoscere i circuiti e sapere che cosa fanno perché quando uno li vede riconosce e capisce che cosa che tipo di ipotesi bisogna formulare allora per vedere se abbiamo capito facciamo un esempio un esempio anche numerico vediamo se le cose funzionano e tanto per non complicarci troppo le cose prendiamo il solito circuito con una maglia sola intanto dobbiamo a questo punto cercare di capire il concetto non ci interessa come dire perderci nei calcoli per ora allora dunque qua abbiamo mettiamo un po' di numeri prendiamo vs pari a 3 volt R di 1 kg del diodo abbiamo bisogno di due parametri che definiscono un modello per grandi segnali questi parametri sono di solito forniti anche nei datasheet del diodo quindi nella scheda tecnica che viene fornita dal costruttore mi dice che V gamma per esempio è 0,6 volt che è un valore tipico per un diodo in silicio e RD è 50 ohm chiaramente devo risolvere il circuito che vuol dire trovare corrente e tensione bene allora facciamo la prima ipotesi va bene per capire un po' il procedimento faccio la prima ipotesi sapendo che non è quella giusta d'accordo? supponiamo devo fare l'ipotesi su V no? V maggiore V gamma V minore V gamma questa è supponiamo che io dica V è minore V gamma no? questa è l'ipotesi che faccio se V è minore V gamma il modello di piccolo segnale che devo ad operare non di piccolo di grande segnale il modello di grande segnale mi dice uguale 0 allora scrivo il sistema l'equazione esterna è l'equazione alla maglia Vs uguale a V più Ri l'equazione interna la sostituisco con il modello di grande segnale uguale 0 d'accordo? il sistema è semplice è banale cosa viene fuori soluzione I uguale 0 V uguale a 3 volt V uguale a Vs no? se sostituisco I uguale a 0 alla prima equazione mi viene V uguale Vs Vs è 3 volt quindi viene V uguale a 3 volt e V verifico l'ipotesi è V minore V gamma no V gamma è 0,6 e quindi la prima ipotesi non è verificata non ho trovato la soluzione ok? faccio la seconda ipotesi a questo punto che V sia maggiore o uguale di V gamma ma a questo punto il modello di grande segnale mi dice mi dice I uguale V meno Vd no V meno V gamma fratto Rd ora vedete io qui posso esplicitare esplicitare V V viene uguale a V gamma più Rd per I a questo punto se questa V la copio sopra mi viene sostituisco l'espressione che ho trovato per V all'espressione di sopra mi viene V S uguale a V gamma più Rd per I più R per I e quindi posso trovare I uguale a Vs Vs meno V gamma diviso Rd più R quindi se sostituisco Vs meno V gamma fa 2.4 Rd più R fa 1050 2.4 diviso 1050 quindi riduco solo un 5% viene circa 2.3 milliampere è fatto 2.4 diviso 1050 quindi vengo milliampere e sono 2.3 5% taglio da 2.4 quindi ho I posso chiaramente trovare V sostituisco questa espressione vedete che ho già però questa è facile perché mi viene Rd per I quindi devo fare 50 Ohm per 2.3 milliampere 50 Ohm per 2.3 milliampere fa 115 milliampere quindi 0 115 millivolt quindi 0 115 volt più 0 6 fa 0 7 1 5 0 7 1 5 volt che ovviamente è maggiore di V gamma sì beh qui per costruzione perché vedete V gamma più se lei è positiva viene certamente maggiore V gamma quindi la seconda soluzione è quella giusta quindi sottolineiamo questa va bene e questa va bene ho trovato la soluzione al sistema non lineare come vi dicevo questa è un'espressione approssimata poi se voglio avere il numero esatto devo andare a risolvere il sistema non lineare già questi numeri sono tipicamente abbastanza buoni per farci dei conti delle valutazioni sul circuito insomma in generale fare una buona parte della progettazione va bene ok allora c'è un altro tipo di modello che spesso si adopera che invece è un altro tipo di linearizzazione ed è bene vederlo ora così capiamo a che cosa serve l'altro modello si chiama modello per piccolo segnale modello per piccolo segnale dunque è un altro tipo di linearizzazione è sempre una linearizzazione perché noi i sistemi lineari li sappiamo risolvere quelli non lineari diciamo facciamo fatica a risolverli allora mentre il modello per grande segnale era una linearizzazione a tratti di tutta la caratteristica il modello per piccolo segnale è una linearizzazione al primo ordine intorno a un punto è in pratica un'espansione di taylor al primo ordine intorno al punto quindi è un'espansione di taylor a primo ordine delle caratteristiche voi conoscete cos'è un'espansione di taylor chiaramente bisogna definire rispetto a che punto si fa l'espansione perché a che punto è la curva e questo va deciso sulla base dei vari casi vediamo di nuovo un esempio per come dire introdurre il problema e capirlo un po' immaginiamo di avere la solita maglia una resistenza a un diodo e stavolta il generatore è fatto in questo modo c'è una batteria che mi dà quindi una tensione costante VS grande scrivo e poi una un altro generatore di tensione in serie che mi dà una tensione alternata per esempio la chiamo VS piccolo quindi il generatore di tensione è fatto dalla somma di due cose bene ora per comodità io no d'accordo rappresento la cosa in questo modo se scrivo la espressione della equazione di maglia mi viene una cosa del genere la somma dei due generatori quindi VS grande più VS piccolo è uguale a V più R per I quindi la retta di carico cioè la relazione esterna viene a intercettare l'asse delle ascisse cioè I uguali a zero quando V è uguale a VS grande più VS piccolo e VS piccolo immaginiamo che sia una quantità variabile che magari oscilla intorno a un valore centrale come possiamo vedere la stessa cosa graficamente prendiamo il piano IV o vediamo che c'è questo questo è per esempio vs e questa sarebbe la retta di carico quando vs piccolo è uguale a 0 e poi al variare di vs viene un'altra retta di carico se vs è positivo allora vs grande più vs piccolo mi viene maggiore di vs grande e quindi mi viene questa retta di carico parallela all'altra perché la pendenza è sempre meno 1 su r quindi questa è la retta di carico quando vs piccolo è maggiore di 0 se invece vs piccolo viene minore di 0 chiaramente la retta di carico mi verrà quest'altra d'accordo per trovare il la soluzione del sistema chiaramente vedete in un caso nel primo caso quando vs piccolo è uguale a 0 la soluzione del sistema è questo nel secondo caso è questo punto nel terzo caso è questo punto allora per trovare come varia la soluzione del sistema al variare di vs siccome mi muovo se vs piccolino mi muovo sempre in un piccolo intorno del punto che abbiamo quando la parte variabile vs piccola è nulla posso approssimare intorno al punto centrale la caratteristica al primo ordine con la retta tangente in modo che la linearizza e mi viene più facile trovare la soluzione va bene? quindi faccio un'approssimazione al primo ordine in cui approssimo la caratteristica intorno a questo punto con una retta che è la retta tangente quindi stavolta l'approssimazione è molto più precisa però è in un intervallo molto più piccolo d'accordo? allora prima di procedere ulteriormente mi diamo un pochino di definizioni e un po' di nomi allora innanzitutto questo punto centrale qui quindi la soluzione del sistema quando la parte variabile è nulla lo chiamo punto di riposo cioè è la soluzione del sistema quando i generatori variabili sono nulli perché mi interessa nominarlo? perché intorno a quel punto farò l'espansione di Taylor d'accordo? quindi questo punto di solito il punto di riposo si indica con la lettera Q questo è il punto di riposo si chiama punto di riposo perché è il punto è la soluzione del sistema quando non c'è segnale variabile tipicamente la parte variabile è la parte di segnale che porta informazione devo dire un po' per le cose come sono strane spesso il punto di riposo si chiama anche punto di lavoro è buffo ma insomma si chiama punto di lavoro lo stesso punto è perché è il punto intorno a cui lavora il sistema quando c'è il segnale intorno a quel punto il sistema lavora quindi quel punto riposa ma intorno a quel punto lavora vuol dire quindi si chiama nella letteratura un po' nei bitest lo trovate scritto a volte come punto di riposo a volte come punto di lavoro insomma è la stessa cosa allora quindi avrò una corrente e una tensione nel punto di riposo che tipicamente chiamo VQ e Q per ricordarmi poi al variare del segnale il valore della corrente varia si sposta lungo questa curva la parte variabile della corrente e la parte variabile della tensione le chiamo I piccolo e V piccolo quindi avrò in generale che la I cioè che il punto si sposterà tra per la I avrò IQ più I piccolo e per la V avrò VQ più V piccolo quindi I è la differenza tra la corrente totale e il valore nel punto di piccolo è la differenza tra la corrente totale e il valore nel punto di riposo e V piccolo di nuovo è la differenza tra la corrente tensione totale e la tensione nel punto di riposo allora vediamo di fare questa espansione a primo ordine giro quindi I sarà una certa espressione della tensione faccio faccio un'espansione di Taylor al primo ordine intorno a Q che è il punto di coordinate VQ giusto come si fa termine di ordine 0 sarà la corrente nel punto VQ più termine 1 dovrò fare la derivata della corrente rispetto alla tensione calcolata per V uguale a VQ che moltiplica V meno VQ questa è da definizione espansione di Taylor al primo ordine quindi io posso scriverla posso dare un po' di definizioni cosa posso fare beh in realtà se passo la I da questa parte mi viene I meno a questa qui facciamo un po' di riconosciamo un po' di quantità I nel punto VQ è quella che abbiamo chiamato IQ giusto V meno VQ è quello che abbiamo chiamato V piccola e questa derivata di I rispetto a V la possiamo chiamare G piccola perché dimensionalmente è una corrente divisa una tensione e quindi è una conduttanza le conduttanze si indicano con la lettera G questo termine se passo IQ dall'altra parte mi viene I meno IQ ma I meno IQ è per definizione la variazione di cioè I piccola quindi vedete questa espressione mi è diventata I piccola uguale a G piccola per V quindi la variazione di corrente come si legge la variazione di corrente rispetto al punto di riposo è uguale a G per la variazione della tensione rispetto al punto di riposo quindi ho ottenuto un'espressione lineare quella che cos'è è la caratteristica del diodo intorno al punto di riposo linearizzata intorno al punto di riposo questa quantità G è dimensionalmente una conduttanza però essendo ottenuta da una derivata si chiama conduttanza differenziale quindi è la conduttanza differenziale per dirla per esteso del diodo intorno a Q i e V si chiamano anche variazioni della corrente e della tensione rispetto al punto di riposo quindi come dire il modello per i piccoli segnali si dice anche modello per le variazioni i piccoli segnali sono loro sono le variazioni rispetto al punto di riposo si chiamano piccoli segnali perché tipicamente sono piccoli e ragionevolmente devono essere piccoli perché stiamo facendo un'espansione al primo ordine che vale se sono piccoli gli scostamenti dal punto di partenza d'accordo se vogliamo possiamo calcolare questa G e che io come devo fare per calcolare G devo fare la derivata e la corrente rispetto alla tensione nel punto di riposo quindi devo fare d su dv di che cosa dell'espressione della corrente data dalla caratteristica ed è is per e alla v fratto eta vt meno 1 tutto calcolato per v uguale a vq allora vedete se faccio la derivata il primo termine come fatto ho is che è una costante quindi esce fuori dalla derivata poi devo fare la derivata dell'esponenziale quindi devo moltiplicare per il coefficiente della tensione eta vt e poi mi viene v e alla v diviso eta vt quindi questa è l'espressione precisa della della conduttanza differenziale e se la calcolo in v per v uguale a vq vuol dire che qui al posto di v ci devo scrivere vq d'accordo? questa è l'espressione precisa allora questa espressione può essere un pochino approssimata perché in polarizzazione diretta notate che in pratica dunque in polarizzazione diretta cioè diciamo vq maggiore di vt abbastanza maggiore di vt praticamente l'esponenziale è uguale all'esponenziale meno uno quindi questo termine is per l'esponenziale è praticamente iq d'accordo? quindi in polarizzazione diretta posso scrivere g uguale a iq diviso eta vt quindi l'espressione è l'espressione del punto di riposo e la g è la corrente diviso la tensione termica diviso il fattore di idealità questo vale solo in polarizzazione diretta perché per fare l'approssimazione che l'uno non conti rispetto all'esponenziale deve essere vq abbastanza grande da far sì che l'esponenziale sia molto maggiore di 1 ok ovviamente anche questo questo modello piccolo segnale si può trasformare in un circuito perché se questa è la corrente questa è la tensione questa qui sarà la resistenza di valore 1 su g questo disegnino questo circuitino è esattamente la traduzione grafica dell'espressione i uguale gv ok ok allora vediamo da applicare un attimo questo concetto a un circuito vedere se il programma risolve un piccolo problema con questo modello di piccolo segnale vediamo numericamente la cosa lo stesso circuito di prima mettiamoci dei numeri e proviamo a vedere come si usa allora io ho un vs grande e vs piccolo e prendiamo gli stessi numeri di prima cioè estendiamo l'esercizio di prima avevamo v uguale a 3 volt r uguale a 1 kg il diodo è lo stesso di prima quindi v gamma era 0,6 volt e rd era 50 ohm noi avevamo già trovato i valori di corrente e tensione quando il generatore di vs piccolino era nullo avevamo già trovati prima no? quindi v e i li avevamo già calcolati prima torniamo un attimo indietro erano 2.3 miliampere e 0,715 giusto? quindi ora l'abbiamo chiamati 2.3 miliampere e 0,715 volt in realtà ora abbiamo aggiunto questo pedici q quindi adesso in questo caso dobbiamo chiamarli appunto vq e iq allora questo vs piccolo non abbiamo ancora detto com'è fatto immaginiamo che sia una cosa del genere una sinusoide di ampiezza 0,1 volt per seno di omega t dove omega è 100 radianti al secondo va bene? quindi è una piccola quantità 0,1 volt soltanto rispetto ai 3 volt fissi e variabile nel tempo allora come si fa? si scrive l'equazione alla maglia equazione 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 della maglia abbiamo vs più v piccolo s uguale a v più r per i d'accordo? allora adesso scriviamo vi come parte costante cioè parte di punto di riposo più parte variabile e qui mi viene vs più v piccolo s uguale a la parte costante più la parte variabile per la resistenza lo stesso r per i q più r per il piccolo va bene? ora quello che dovete osservare è che in realtà questa espressione si può semplificare molto perché vs grande uguale a vq più r iq fa 0 cioè vs grande è già uguale a vq più r q perché i valori vq e q erano esattamente la soluzione di quell'espressione quindi questa vs è uguale a vq più r q proprio perché vq e q erano esattamente soluzioni del sistema con vs nullo d'accordo? quindi l'espressione che rimane è di questo tipo vs uguale v più ri quindi vedete esplicitando le variazioni i temini costanti se ne vanno e rimane soltanto un'espressione per le variazioni la variazione del segnale vs la variazione della corrente e la variazione della tensione quell'espressione si chiama espressione delle variazioni è l'equazione delle variazioni diciamo equazione delle variazioni e a questo punto abbiamo un sistema fatto soltanto per le variazioni perché il sistema è questo vs uguale a v più ri e poi abbiamo il circuito equivalente del diodo di piccolo segnale che mi dice che i piccolo è uguale a g per v vedete quindi adesso abbiamo un sistema che è diventato lineare dove le incognite sono le variazioni rispetto al punto di riposo di tensione corrente e questo quindi lo sappiamo risolvere va bene quindi abbiamo linearizzato il sistema sappiamo risolverlo ovviamente per quel sistema abbiamo anche un circuito corrispondente possiamo disegnare che è un circuito per le variazioni in pratica che cosa c'è? c'è c'è solo vs al posto del diodo c'è una resistenza 1 su g e poi c'è la resistenza e questa qui è la i piccola e questa tensione è la v piccola vedete quindi dal circuito non lineare facendo espansione al primo ordine siamo passati a un circuito lineare per le variazioni ok quindi questo qui è il circuito lineare per le variazioni va bene chiaramente è un grosso una grossa semplificazione perché ora in sistema lineare sappiamo come risolverlo cioè tenete presente qual è il limite il limite è che chiaramente vale questo soltanto per piccole variazioni rispetto al punto di riposo perché si tratta di un'espansione al primo ordine va bene quindi in questo caso è come dire giustificato per il fatto che l'ampiezza del segnale vs è molto piccolo rispetto all'attenzione costante per esempio quindi effettivamente possiamo prenderla come una piccola variazione andiamo a risolvere vedete quindi qui mi viene se vado a risolvere sostituisco al posto di v i su g e quindi qua mi viene i uguale a al posto di v s scrivo v a no scrivo v s v s diviso r più 1 su g quindi qui mi viene 0 1 diviso r è 1 g quanto vale devo ottenerlo facciamolo qui il conto g avevo detto cos'era era i q diviso eta vt va bene quindi devo dare un dato del problema che mancava prendiamo eta uguale 1 un numero tra 1 e 2 eta quindi prendiamo eta uguale 1 quindi g quanto viene viene i q che è 2.3 milliampere 2.3 per 10 a meno 3 diviso eta che è 1 vt è 26 per 10 a meno 3 2.3 diviso 26 fa 0 0 9 questi sono ampere diviso volt quindi sono ohm a meno 1 quindi qui quindi qui devo mettere r che è 1000 ohm 1 su g è l'inverso di questo che fa direi 11 ok quindi sono 11 ohm 0 1 diviso 1011 fa direi fa 0 1 per 10 alla meno 3 l'11 conta pochino questi sono ampere 0 1 milliampere va bene aspettate che nel video non mi compare torno indietro faccio 0 1 milliampere la tensione v a questo punto la posso scrivere v è uguale a i diviso g quindi devo fare 0 1 milliampere diviso 0 0 9 ohm alla meno 1 1 diviso 0 0 9 fa 11 come avevamo detto 0 1 per 11 fa 1.1 milliampere e abbiamo trovato anche le variazioni di corrente e tensione detto questo possiamo scrivere mi serve un foglio nuovo possiamo scrivere il valore della tensione quindi soluzione la corrente totale sarà iq più i piccolo e quindi sarà 2.3 più 0 1 per seno di omega t milliampere e io seno di omega t mi sa che non l'ho scritto qua però c'era anche questo no? perché vs 0 1 per seno di omega t quindi questo è per seno di omega t e anche qui c'è per seno di omega t seno di omega t è un numero puro che dipende dal tempo no? quindi allora e invece la v è vq più i e quindi è 0 7 1 5 più 0 punto 0 0 1 1 seno di omega t volt quindi abbiamo risolto ripeto è un'approssimazione ma che è tanto più buona quanto più i e v piccoli sono piccoli questo è v è Grazie.